E poi noi italiani siamo strani. Ecco alcuni cartelli stradali che si trovano in tutto il mondo. E' vietato far vagare le proprie gambe da sole. Chi trasporta cubi deve trattenere le flatulenze con le mani. Attenzione! Punti esclamativi volanti. E' vietato fare skate ai bambini con mani deformi. E' vietato emettere flatulenze molto potenti. Esultate in caso di pericolo. Attenzione! Mucche giganti possono indiottire la vostra auto. Agli uomini bicolore è vietato cacciare le nuvolette. Gli animali tristi sono pregati di seguire le seguenti direzioni. Attenzione! Giganti neri possono rubare le vostre auto invisibili. Agli uomini dei cartelli è vietato uscire dai propri e spiare gli altri. A Dracula è vietato soffiare con il naso contro i bagnanti che salutano. I disabili che si buttano con la carrozzela dalle piste scistiche saranno mangiati dai coccodrilli. Attenzione! Uomini rossi con i pannoloni potrebbero accerchiarvi all'uscita. Ai cani coniglio è vietato defecare oggetti strani. Agli uomini blu è vietato portare in braccio cani fantasma. Ai ragazzi bicolore che non hanno né mani né piedi e che viaggiano su skate senza una ruota è severamente vietato fare tricche ballacche vicino ai treni. Attenzione! Zorro potrebbe farvi esplodere la borsetta con un foglietto bianco. Gli uomini sessuali possono usare lo ski lift come meglio gli aggrada. Agli indiani con spade medievali è vietato volare sopra le moto senza autista. Alla prossima! Al Grazie a tutti